Buongiorno a tutti, 7.05, mercoledì 29 novembre, benvenuti a Good Morning Milano, benvenuti su Crystal Radio, benvenuto a Lorenzo Masieri. Benvenuti a tutti, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, grazie mille, grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Good Morning Milano e di Crystal Radio, che poi dopo sappiamo essere solo l'inizio oggi di Crystal Radio, cioè tutte le mattine noi siamo il fischio d'inizio, il calcio d'inizio, la prima pietra, il primo miglio, cos'altro possiamo essere? La sveglia, la giornata di Crystal Radio e quindi con noi si inizia, poi c'è tutta una giornata piena di informazioni, programmi, musica, grande musica, piccola musica, musica bellissima, musica leggerissima, bravissimo, sapevo che saremmo arrivati lì. Comunque tutto questo su Crystal Radio, che potete ascoltare in tante modalità, no? Esatto, noi siamo in diretta radio, in FM 96.2, ma anche in streaming, sul sito, sull'app, nelle vostre autoradio con il DAP+, ci potete sentire e se ci volete vedere, ci potete vedere sul profilo YouTube di Milano All News. Scusate, avevo in tasca un Mars che stavo per schiacciare, quindi adesso ho tirato fuori, perché faccio colazione sulla prossima canzone, ho deciso. Questa mattina, inizio con una botta delle calorie, va bene, mi è stato regalato ieri sera, perché mi sono trovato a casa tardi e mi sono trovato ieri, per domani te lo regalo, che bello dai. E ora andiamo con Alfa, bellissimissima. Alfa con bellissimissima, non si riesce a non battere le mani sul finale di questa canzone, vero? No. Ma nel caso non sappiate battere le mani, ricordiamo sempre che, caro mio Masieri... C'è il tutorial del buon Faso Bassista, membro di Elio Le Storie Tese, che insegna come farlo a tempo. A tempo, su YouTube c'è il tutorial di come battere le mani. Tra l'altro adesso, sono stati recentemente, sai che avevano dato l'addio alle scene. Sì, poi li su come vascono, che andiamo dall'ultimo concerto. No, sostanzialmente sono in giro per i teatri e all'Arcimboldi, qui a Milano, hanno fatto una scenetta, scusate se parliamo sempre di loro, però noi siamo a Milano... A noi ci piacciono voi. No, oltre a quello siamo anche Cristal Radio, Milano si sente. Infatti, cosa c'è di più che il milanese? Io sono proprio Milano, cioè dai. Esatto, sostanzialmente ha detto, vabbè, sul palco fa... Allora ci hanno accusato di essere poco internazionali, eccetera, quindi cantiamo una canzone straniera. Si mette a cantare male Gold degli Spandau. Ok. Ah, dal pubblico si sente, ah, no, 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 allora vieni su te, vieni su te. E sale Tony Hedley degli Spandau Ballet a cantare benissimo Gold. Fantastici, fantastici. Un saluto a tutti gli iglio e anche le storie tese. Assolutamente. Ok. 3-3-1... Vai, vai, scusa. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5. Il primo messaggio... Che numero è? È il numero di Cristal Radio, ci potete scrivere, mandare le foto, quello che volete. Come tutte le mattine. Ok, chi ci scrive? Il primo messaggio è di Alberto. Il primo messaggio è di Alberto. Alberto, buongiorno amici del mattino, la notizia di oggi è che i mezzi di trasporto pubblico funzionano regolarmente, almeno così a me sembra in zona Navigli. Mi piace Alberto, ho venuto nel mood di Good Morning Milano, ottimo, grazie mille Alberto. Perché questo? Ah, grazie, ieri è un disastro. Vogliamo ricordarlo qualora. Allora, lo ricordiamo dopo perché io ho visto anche le foto che hanno pubblicato alcuni del perché ieri la M1 non è andata, cioè nel senso, però magari ne parliamo meglio dopo perché prima e poi adesso sentiremo anche Luce Verde che ci racconta un po' la sua, anzi la viabilità appunto in questo momento sulla città di Milano, ma ieri è stato appunto un disastro, cioè tutto il giorno praticamente verso sera ha cominciato a ripartire perché lo parliamo bene, è stata appunto bloccata la M1. Il casino è che se tu blocchi la M1 da, a un certo punto è stata bloccata praticamente da Cadorna fino a Sesto, quindi praticamente mezza città bloccata con tutto quello che ne consegue, ma appunto parliamo di viabilità e ora diamo la linea a Luce Verde per parlare e per scoprire che come in questo momento è la viabilità nella città di Milano e città metropolitana in tempo reale, quindi il traffico, se dovete per forza prendere la macchina almeno sappiate dove andare, così io mi gioco un tratto urbano della 4 incomincia a intensificarsi, è dato a 1.01, quella roba lì, quella roba lì, dai andiamo allora, Luce Verde! Malika Jan, ti piace così e noi siamo ancora qua su Crystal Radio Milano, Good Morning Milano, un po' annappati, allora alla grande età di 43 anni ho scoperto che non puoi far colazione con quello che vuoi, soprattutto se hai una trasmissione radiofonica da portare avanti, no più che altro un marzo, tanto buono, lo adoro, è una delle sette meraviglie del mondo, altro che, non mi danno dei soldi per dirlo ma, a me si mi regalano un marzo in più, non mi dispiace, diciamo che dovreste scrivere sulla confezione, se sei uno speaker radiofonico mangialo lontano dalla diretta, perché ho un attimo un problema, capito? Eh sì, ma vabbè, ma intanto andiamo ora, anche perché mi sono mangiato un marzo intero nella canzone di Malika Jan, che durerà 3 minuti neanche, senza neanche bere un goccio d'acqua, quindi non so se arriverò alla prossima canzone vivo, però posso dire, se devo morire, che bello morire dopo aver mangiato un marzo, cioè a questo punto proprio, che muore, non mangi un altro, no, allora, la canzone più lunga a posto che mangiamo in un altro dopo. Cos'è successo ieri? Lo sapete benissimo, perché è andato anche sui telegiornali nazionali, ieri c'era il servizio Milano, M1 bloccata per 11 ore, tipo, una cosa del genere, io ho segnato alle 17.18, mi è arrivata la notifica di ATM, in cui segnalava la M1 riaperta su tutta la linea. Ieri mattina alle 7, quando eravamo in onda, c'era già. C'era già? Sostanzialmente ci sono stati dei problemi, come si può definire? Allora, si definisce che il buratore viene a casa tua a sistemarti quel buchino che è venuto fuori dalla tapparella di fianco, cioè di fianco alla tapparella c'era un problema e dici, guarda, mi può tappare il buco lì? E ti tira giù la finestra, cioè più o meno è stata così. E sostanzialmente bus sostitutivi appunto per tutte le 11 ore, solamente qualche ora prima della riapertura totale è stata riaperta l'interscambio a Loreto, che è fondamentale. Perché il problema è appunto questa colonna che è stata travolta mentre facevano i lavori di manutenzione durante la notte, fa ridere perché veramente, cioè tu sei lì a sistemare una roba, hanno fatto solo un disastro, ma molto 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 danneggiato, una colonna portante che tiene su diciamo il soffitto delle gallerie, diciamo, non sono molto tecnico ma quello soldoni fa, e il rischio appunto era che insomma, infatti hanno subito tutto puntellare, hanno dovuto rinforzare tutto e poi sistemare la colonna incriminata, la colonna del diavolo. Ci sono le foto della colonna che fa abbastanza impressione, però vabbè. No, la cosa ridicola non è che è avvenuto un cedimento, meno male vuol dire che tutto funziona bene, non è avvenuto un cedimento strutturale, anzi eri lì per cercare di sistemare le cose perché c'era un altro problema, e una manovra sbagliata, che ci sta proprio meno da dire anche, può succedere, il casino è che se sbagli appunto a casa tua, vabbè signor Muratore mi ha tirato giù il muretto, vabbè glielo rifaccio, mi scusi, io tiro su, se tiri giù qui, mezza colonna, ma non è che tutto è avuto giù, mezza colonna, blocchi una città perché giustamente è che può farci passare i treni mentre sta colonna rischia di venire giù. Certo è che non c'entrano assolutamente le due cose, Trenord e Tm, non c'entrano niente, però nel giorno in cui viene rinnovato per altri dieci anni, Trenord, ci sono le polemiche perché ci sono i disagi, un po' la malagestione di su e di giù, in più succede anche questo, la percezione dei cittadini milanesi a cosa pago due euro e venti, i biglietti, ieri è stato un disastro, un disastro su tutti i fonti. Capiremo, capiremo. Ah, capito, finisce così sta canzone, ti è piaciuta? No. Ah, ti è piaciuta? Oh, Giacoblaska, The Blessed Madonna, Messi, ah, così va. Andiamo di meme ormai. Sì, sì, ok, va bene. Dica pure, dica pure, dica pure, dica pure. No, allora, continuiamo sostanzialmente sulla linea del trasporto pubblico perché è uscita una notizia in cui sostanzialmente, sapete appunto che è stato siglato il nuovo accordo decennale per quanto riguarda Trenord e il servizio di treni che collega praticamente tutta la Lombardia. Nel contratto che è stato firmato lunedì si prevede sostanzialmente, tra le condizioni generali di trasporto, che si possa portare gratuitamente la bicicletta sui treni. Ma conquista, eh? Ma questo, per questo bisogna aspettare più nel dettaglio febbraio 2024 che è il mese in cui entrerà in vigore l'aggiornamento di tali condizioni. Certo che è un obiettivo e chiaramente al momento si ricorda che è un ostacolo il fatto di portare la bici sui mezzi, cioè sui mezzi in generale mi permetto di dire, in particolare su Trenord, perché non tutti i treni vanno bene. Comunque c'è il problema. Non tutti i vagoni vanno bene. Io in Austria ho girato con il treno e la bicicletta e tutti i vagoni erano buoni. Ma infatti adesso quando appunto entrerai in vigore, con calma, perché se entra in vigore a febbraio 2024 il contratto che cambia le condizioni, poi chissà quando verranno attuate diciamo, certo è che io immagino sui treni la mattina, che sono già dei pollai, parliamoci chiaro, dove posso mettere io la mia bici se ho voglia di fare la combo bici più treno. Ecco, quello è un problema. Io spero che porti con sé anche appunto un ripensamento dei vagoni. E li hai appena comprati nuovi però, quindi non so come facciano. Ma li abbiamo visti solo da fuori però. No, 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 anche quelli nuovi, nuovi proprio, che a me piacciono tantissimo ma non piacciono ai pendolari. Quelli che hanno il corridoio grande? Sì, che hanno il corridoio un po' più grande sopra ma più piccolo sotto, quelle che hanno delle cose, c'hanno gli schermi, a me piacciono solo per quello. Gli schermi? Sì, c'hanno gli schermi che ti dicono col GPS dove sei, a me piacciono solo per quello. Giustamente ai pendolari, giustamente, e in altri modi non c'è da avere, poi giustamente i pendolari poco frega perché la strada la sanno abbastanza bene. Io posso per il bicicletta e non me lo ricordo. No, no, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, c'è un vagone addibito. Lo stato sociale, lo stato sociale con Carboni. Eh sì, con grande. Sì, no, 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 questa canzone mi piace. Perché c'è lo stato sociale, dici te. Ma lo so, non so perché proprio, ma che poi non ho niente contro lui. Allora, è come la Pausini. Sì. Non so che dirò una cosa di me polari, ma Pausini piace a tutti, è meno male, è brava. Però io lavorai con mia amica per riuscirci a bere una birra. Sì, dell'Ambrusco. Dell'Ambrusco, va bene, bevo anche l'alcol, che non bevo, se vuoi, perché mi sta proprio simpatica, proprio mi sta, ci si diverte. Però ti direi, Laura, va bene, usciamo, o non cantare, cioè andiamo a karaoke, ma non cantare una canzone tua. Cantiamo le canzoni. Cantiamo le canzoni di Emma. Quindi Luca Carboni, ti sta simpatico? Sì, andiamo a vedere la Ducati, vi dico. Andiamo a vedere il Bologna. Andiamo a vedere il Bologna, ma male, ci andiamo volentieri, però, no, no, Luca, non mi cantare, cantiamo le canzoni di un altro. Di un altro. Di Raffa. Va bene, va bene. Non ci sono, quindi vuol dire che in realtà è una grande stima per l'uomo, o per una donna in quel caso. Per l'uomo, ma non per l'artista. No, però, insomma, tutti vogliono andare con loro solo perché, oh Dio, che brava Pausini che sei, oddio, sposami Pausini che sei. Chiaro. No. Chiaro, ti sei trovato in corso. No, ma io non mi chiedo. Sono anni che lo dico, posso confermarti tutti che sono anni che dico queste cose. Soprattutto sulla Pausini. Laura, vorrei uscire una sera con te a farci una bella risata, chiacchierata, voglio che mi racconti dei tuoi viaggi. Ma non devi viaggia tanto. Ma non devi cantare. Andiamo al Carocca, anche se vuoi, perché so che ti piace cantare. Va bene? Andiamo qua al Pirata Milovara che fa il Carocca, se vuoi. Però, no, non canti le tue. No. Dai, riprendiamo con la rassegna stampa, chiudendo sostanzialmente tutto il discorso sul trasporto pubblico locale, sulla mobilità pubblica. Perché? Perché sembrerebbe che innanzitutto quel famoso pilastro che abbiamo tutti in mente sia stato completamente sostituito con uno d'acciaio. Cioè, è stato tolto con il cemento e è stato messo uno d'acciaio. Acciaio inox, come la cucina di casa vostra. La mastrota. E vi è arrivato un mastrota e ha detto, mi rendo la cucina di acciaio inox. E concludiamo con una buona notizia, perché la regione più il governo mettono sul piatto 29 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, che verranno ripartiti di provincia in provincia. Milano se ne prende più di 18. Beh, ci sta adesso. La somma di tutti gli autobus di Milano fanno quella di tutta la Lombardia, mi sa più o meno. Bergamo poco più di due, Iden Brescia, eccetera, eccetera. Però, sostanzialmente, 29 milioni di euro in più per implementare il livello di servizio del TPL in ottica sostenibile. Dopodiché questo fa capire ancora una volta come Milano, che è la regione Lombardia, va benissimo qui, so che il nostro amico Zoppolato sarebbe felice di questo discorso che sto per fare, ma che in Lombardia è scomoda alla Lombardia. Perché pensate quanti soldi arrivano a Lombardia per sistemare i mezzi pubblici e i nostri amici della Varcamonic o i nostri amici della Valseriana non avranno praticamente mezzo euro perché glieli feriamo tutti noi per mettere a posto i pilastri, per mettere a posto comunque il nostro mezzo pubblico che, ovviamente, facendo la tara in confronto al paesino disperso nelle valli, noi siamo super privilegiati. Assolutamente. E con questo sto dicendo che non direi, ma perché se vai a vivere là sai? No, nel 2023 io voglio, voglio, esigo che ci sia una nazione o almeno una regione che anche il paesino sperduto nelle campagne del Mantovano venga collegato in maniera rapida e comoda al resto della Lombardia. E su questo è come se ne c'è pinza. Ho partito anch'io con il mio manifesto politico questa mattina. Il mio manifesto politico è solo mobilità. Sì, 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 trenini. Mengoni con Franco126, un'altra storia. Eh sì. E altre storie invece su Milano? Altre storie su Milano le abbiamo? Le prendiamo un po' larga perché ieri sostanzialmente si sono aperte le danze del grande evento che interesserà Milano, ossia l'Olimpia di Milano Cortina 2026. Ma per un grande evento che viene, un altro che va. Perché permette di sottolineare che ieri comunque noi Italia abbiamo perso l'Expo a Roma 2030. Dove l'abbiamo lasciato? L'abbiamo lasciato a Riyadh e su questo io non intervengo perché non voglio assolutamente dire di una certa legittimazione che stiamo facendo nei confronti dei paesi arabi che come sappiamo, anche se vi ricordate per i mondiali, ecco, aspettatevi la stessa cosa nel 2030. Ma posso dire che non è una novità. Non è una novità, però... 1976, finale di Coppa Davis in Cile con Pinochet. Stessa cosa. E c'erano le stesse identiche polemiche dietro. Quindi la verità è che è inutile che facciamo tanti verginelli. Continueranno... No, beh, certo. Non è che l'Europa è ok. Però adesso... Poi non ci nervosiamo. Abbiamo fatto i mondiali in Russia. Abbiamo fatto le Olimpiadi Invernali. Sì, però non... Abbiamo fatto l'Eurovision in Ucraina. Nel 2029 voglio... Passando, nel senso che c'era. Nel 2029 voglio... No, ma per la questione delle condizioni di lavoro... A me, ma sì, ma ci sono tante cose che... I diritti, eccetera, eccetera. Quindi poi... Abbiamo fatto gli stati in Italia, chissà, le condizioni di lavoro. C'erano nel 90, no? Sì, però erano 30 anni fa. Ah, quello sì, quello sì. No, ma a me mi infastidisce un po' questa cosa di sembrare tutti puri, no? La verginella. No, no, assolutamente. Dopodiché sono d'accordo che non andrebbero fatte certe cose. Paesi in cui hai delle ombre, delle ombre anche solo, di diritti civili, diritti dei lavoratori, diritti umani e negati, tu non ci vai. Lì volevo arrivare. Però poi lo fai in quattro stati, forse. Sì, andiamo a fare l'Olimpia di Svezia, in Danimarca, in Islanda. È vero, anche quello, però rimane il fatto che poi i titoli dei giornali ce li ricordiamo durante i mondiali e adesso non mi ricordo nemmeno quante migliaia di lavoratori si pensava fossero morti sotto il sole, col caldo nella costruzione degli stadi in Qatar. Vabbè, sostanzialmente, 2030, Expo, Roma arriva terza su tre. Menomale. Abbiamo perso il voto di un sacco di paesi e vince il Riyadh, quindi si farà in Arabia Saudita. Expo, che tanto ha dato a Milano nel 2015, forse anche, magari ha aperto quella pista per le grandi opere, quelle grandi strutture che ci porterà nel 2026 ad ospitare le Olimpiadi invernali, ieri la posa della prima pietra nel famoso Pala Italia, quello che sarà il famoso Pala Italia, Santa Giulia. Hanno due anni per farlo. Hanno due anni per farlo. No, due anni e mezzo, vedrai. Pronta nel 2025, ha detto, a margine della posa della prima pietra, il sindaco Beppe Sala. I costi, i famosi extracosti dati dalle famose vicende mondiali, eccetera, sono pari al 50% di quanto previsto, ma Sala dice, sono a carico della società costruttrice. Che sarà felicissima, quindi. E nell'impresa iniziale non dovevano esserci fondi pubblici. Da Milano non possono arrivare, non abbiamo disponibilità. Sostanzialmente, però, dice che... A me questa cosa di mettere le mani sempre avanti mi piace tantissimo, cioè... E poi deve essere pronta nel 2025, lui dice, capisco l'uso del condizionale, però io sarei più imperativo, ci stiamo dentro, sostanzialmente. Sì, no, anche perché se tu... Oggi è novembre 2023, due anni è novembre 2025, febbraio 2026 deve essere pronto, utilizzabile. Quindi con l'Audi, quindi tutto quanto, le piastrelle del bagno attaccate, i rubinetti, i seggiolini, cioè tutto, eh? Si legge inoltre. Gli adesivi, cioè tutto. Le bandiere attaccate, le lampadine tutte funzionanti, cioè... Il ghiaccio, il ghiaccio. Il ghiaccio. Un piano di raffreddamento. Eh, infatti, insomma. Mi si legge, invece, non c'è alcun piano per il Palasharp, la struttura che avrebbe dovuto ospitare l'hockey femminile. Chi l'ha detto questo, che non c'è nessun piano? Cioè, lo dice il giornale, scusate. Lo dice il giornale. Ah, ok, scusate. Lo dice il giornale. Adesso capiremo meglio per la questione del Palasharp, ma intanto il Palasharp viene ciclicamente tirato in mezzo, dicendo, lo dobbiamo risistemare, no, non lo dobbiamo risistemare, deve ospitare questo, no, non c'è solo le condizioni per ospitare questo. Vabbè, sostanzialmente faranno Pala Italia, Pala Italia, tra l'altro, nemmeno Gigante, come sapete. Santa Giulia, e tra l'altro, sempre a margine della posa della prima pietra, Sala dice che non è un'opera indispensabile la tramvia Rogoredo Pala Italia. Ah, le dice sempre una giusta, tutti i giorni. Ah, vabbè, però... Cioè, prima l'hai promessa, hai detto che era fondamentale? La promessa, non lo so. No, tutti l'hanno promessa, perché se no non glielo facevano fare, e quello è il casino. Perché tutto il casino di Santa Giulia nasce sull'idea di allungare quella metrotranvia, e invece adesso mi dici, non è? Non siamo sicuri se sarà pronta per tempo per l'Olimpiadi, riferendosi alla tramvia, che sarebbe certo molto utile, ma non indispensabile. Ma come fai a dire una cosa del genere di una città che vuoi far diventare a 15 minuti e green? E soprattutto, ho capito che ci arrivano col treno i tifosi lì, però devono partire di Santa Giulia a piedi, quando invece il tram passa da quella parte lì. Non vuoi fargli prendere il tram? No, non capisco, non capisco. Beh, su queste parole vorrei sentire il nostro amico Carlo Monduzzi, come ne pensa. Senta che c'è tensione, come quella evolutiva di Giovanotti alle 7.47 su Crystal Radio. E questo era Giovanotti con tensione evolutiva alle 7.50 minuti su Crystal Radio, qui all'interno di Good Morning Milano. Vi ricordiamo sempre il nostro numero di WhatsApp. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5. Ma come lo dice bene Lorenzo Maseri, il numero non lo dice nessuno. Chiamatelo se volete, ho fatto scuola di edizione. Per numeri di telefono? Sì, teletapis me l'ha disegnato. Sono i numeri 10, visto solo che 10 si dice 10. Non si dice con l'aria aperta, 10, non si dice 10. Ma anche perché, non si dice perché. No, adesso. Ma è vero, adesso l'ho esagerata un po' un po'. Non si dice perché, perché l'accento è girata. Quindi hanno ragione i genovesi, mi dice che i genovesi parlano perché tutte le volte che vado, che mi capita ad andare. Belin. No, non è che tutti parlano come Peppe Grillo. Che cosa ti dico? Una cosa pazzesca! Te la do io l'America! Mi basto, è 84. Mangialo Iomo! C'è sempre una cosa, recco o recco? Pensa che recco è anche il verbo che usiamo noi, giovani, quando dici di registrare. Sì, quando dici di registrare è orecca. E vabbè, è un po' come quelle robe lì. Io recco, tu recchi. No, adesso usiamo splittare. Sì, sì, bravissima. Ieri sera una signora con cui stavo parlando, mi stava parlando e mi dice no perché mio figlio mi triggera. Mi triggera, sì, sì. Fantastico. Gli ho detto, guarda, non l'ha triggata, l'ha distrutta, perché se parla come suo figlio è finita. Ormai. E si lamentava del fatto che il suo figlio è diecenne, è incomprensibile. Incomprensibile a lei? A lei, si dice. Io non capisco cosa mi dice. Ah, ma proprio dal punto di vista linguistico. Sì, ma mi dice, usa delle parole, ma non capisco cosa mi dice. Vabbè, più o meno. E l'altro invece adolescente mi dice, guarda, anche con l'adolescente è un problema perché è tutto... Questa è una generalizzazione. Anche Max Pezzaglio, c'è un pezzo famoso di Max Pezzaglio, c'è un punto di un concerto che racconta dei suoi vici. No, perché mio figlio è sempre... Il siorilo. È così. Ilo si chiama il figlio di Pezzaglio. Ilo e Sticcio? Ilo. Ah no, Ilo e Sticcio. Ilo con l'H. Ilo. Sì, no, non così marcata. Ilo. Come fosse un nome di un ristorante giapponese. No, dai, no, comunque è molto... Come si chiama name shaming? Sì, però è uguale, letteralmente uguale con i capelli al padre. Ah, quindi uguale a quello che adesso in televisione lo sei visto nello spot di una nota di Sky, che il Max Pezzaglio di oggi incontra il Max Pezzaglio di 30 anni fa. Non l'ho visto. Sì, è sempre per lui con i capelli. Perché hanno registrato a Pavia, quest'estate, la serie che andrà in onda su Sky della storia degli 883 e io ho mandato la candidatura per fare la comparsa. Per fare il repetto. Ah, per fare il repetto. Io sto chiamando, ma non mi sente perché è sorda quella che c'è in regia in questo momento, perché come si chiamava invece? Perché adesso sta uscendo la serie sugli 883, ma loro hanno fatto un film, no? Sì. Blu Chips, qualcosa del genere. Blu Jeans. Non te lo ricordi. Scusa, Blu Jeans, Jolly Blue. Jolly Blue, grazie. Scusa, non sapevo essere... Ho chiesto l'aiuto dalle regie quando invece pensavo che tu non sapessi questa cosa. Ah, Jolly Blue perché, vabbè, oltre ad essere la canzone, era la sala giochi dove andavano da piccoli, da ragazzi a passare le giornate. Quindi un'altra grande prova... No, perché non ci sarà lui però. No, non ci sarà lui. Perché in Tulli Blue c'era lui. Sì, sì. Ma recentemente non mi ricordo dove ha detto che lo guarda un po' così ridendo, un po' come tutti quelli che fanno film. Vabbè, anche Tomba aveva fatto... Ariete. Alex Lariete. Alex Lariete. Anche lui si è preso in giro poi per anni per quella roba lì, eh. Va bene, dai. Allora andiamo con un po' di musica. Purple Disco Machine. Something on my mind. Dan Hartman. Dan Hartman con Instant Replay. Mi sembra di essere già in una chiesa cui gospel... You see the light. You see the light. E tu ascolta Cristal Radio. Ascolta Good Morning Milano. Ogni mattina ti salviamo l'anima. Addirittura. Sì, siamo arrivati così. Addirittura. Sì, sì, basta. Il Morning Show. Punto. Sì, sì, sì. Il Morning Show. Punto. The Morning Show. You see the light. Get out. Get out of the body. Get out of the soul. Allora, io ti direi che cambierai assolutamente stazione in questo momento. No, perché? Vi ho salvato l'anima? No, se io ascolto uno che mi dice, ti salvo l'anima e dico, oh, è tornato Don Assimento. Sono Don Fabio Do Repimento. Do Repimento. Cosa riempie il tempo? Riempie il tempo. Riempie la vostra anima. Alzate i cuori per Cristal Radio. Perfetto. Eccoci tornati nella seconda ora. Nostri fedeli. Sì, noi siamo diventato benvenuti nella casa della musica del grande fratello. House of Blues. Benvenuti nella casa del grande fratello. Vabbè, vedi, io sono alto, volo alto, cerco di salvare le vostre anime e tu boom, giù. Casa del grande fratello. Come lei la riblasi qualsiasi. Non l'ho. No, non c'entra me. La riblasi non fa. Mi tanto a dire. Non fa, non faceva la gisa dei famosi. Ha fatto per tanto tempo, mi sa. Ok, a meno, credo. Fa capire quanto lo guardiamo. Non so, sa che adesso recentemente c'è una polemica con Pupo. Non so se hai detto quella roba lì. Non tontotti. No. Ha fatto l'intervista, ha rilasciato... Ha fatto Netflix, starà a uscire la serie. Ho già fatto uscire la serie. È uscita. Ma c'è la polemica con Pupo perché era tipo opinionista del grande fratello, però adesso recentemente ha detto che non ha mai visto una puntata e c'era chi lo guardava per lui. Ma come? Ormai a Pupo non gliene frega più niente. Pupo è fantastico. Adesso che è stato un po' riabilitato nel sistema... Facciando di tutto per farci cacciare via un'altra volta. Non gliene frega più niente. Vabbè. Grandi personaggi. Allora, la letteria, la famosa letteria, ti dico la verità, io non conoscevo questo posto. La letteria in Brera è una celebre trattoria. La conosci? Ho già sentito a parlare. Vabbè. Conoscevo quella di Via Savona. Ok. C'era una famosa letteria che faceva mangiare panini e via in Via Savona. Vabbè, evidentemente è molto conosciuta all'interno di una Milano per bene, diciamo così. Per bene, bene. Non per bene, bene. Sì, bene. La Milano bene, sì, scusate. Eh no, perché c'è gente che... No, stavo citando un po' il sindaco. C'è gente... Ah, no, andiamo avanti. No, 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 sto scherzando, sto scherzando. Sostanzialmente è arrivata la fine della sua lunga esistenza, perché è 50 anni e già da diverso tempo stava girando la notizia che il 22 dicembre la clersia abbasserà definitivamente perché i due proprietari, Arturo e Maria Maggi, vanno in pensione. Ma perché ti sto raccontando della latteria di Brera? Perché? Perché ti piace il latte? No, perché il coniere della sera pubblica questa notizia in cui sostanzialmente c'è un'intervista appunto ai due proprietari dicendo che siccome non accettano prenotazioni, non accettano prenotazioni a tutti i livelli. Domenica scorsa una signora che si chiama Veronica Ciccone, in arte Madonna, ha chiamato per prenotare post, cioè per prenotare, per affittare, se non sbaglio Madonna era la stessa che durante una sua visita agli uffizi, hanno dovuto chiudere tutto, magari non l'ha chiesto lei per carità però sono stati chiusi, per Madonna fatto sta che le hanno detto ci spiace ma non può prenotare perché valgono per tutte le cose, dice sottolineando che anche dieci anni fa Donald Trump non aveva voluto aspettare il suo turno sul marciapiede e aveva scelto un altro posto, non era ancora chiaramente presidente degli Stati Uniti ma il magnate che conosciamo e fatto sta che né Donald Trump né Madonna sono riusciti a distanza di dieci anni ad accomodarsi ai tavoli della latteria di Brera in via San Marco perché le regole valgono per tutti. Perché adesso è chiuso? Mi piacerebbe chiamare e dire salve posso prenotare un posto? Salve sono Giuseppe Sala. Sono Fabio Rampi, posso prenotare magari oggi? Senta guardi, va bene, ti immagini oggi facciamo uno strappo alla regola. Pensa a te. E tra l'altro in tutto questo un piatto della latteria era stato portato durante l'amministrazione Obama nel menù della Casa Bianca. È un posto con un sacco di storia che non conoscevo e che sicuramente da oggi approfondirò perché se mi fanno aspettare fuori Madonna io comunque... L'unico problema è sbrigati. Sbrigati tanto perché da quanto ho capito devi sbrigarti perché il 22 dicembre sarà su. Va bene che qualcun altro lo prenderà, ho idea. Però chissà se rimarrà poi lo stesso. Visto come sono io pure chiudono e danno fuoco a tutti. Dopo di noi nessuno. Ma no, è una roba alla fine di coerenza. Sì, sì, no, ma mi piace l'idea. Ok, chiuso, boom. Basta, c'è più niente. Tipo un po' la nerona. Sì, adesso non so bene le cose però... Però no, magari invece no, nascerà la latteria 2.0 e chissà però... No, mi piace questa idea che appunto le regole sono uguali per tutte e in questo caso sia Madonna che dieci anni fa. Donald Trump. E chissà quanti in mezzo. E chissà quanti non ci hanno neanche provato perché sapendo come andava a finire. Va bene perché bisogna pensarci bene alle cose, lo sai? Think. Think Rita Franklin. Pensa. Pensa. Prima di pensare pensi. Prima di sparare pensi. Stavo per citare la stessa canzone. Vedi come la stessa parola può essere un successo internazionale o un piccolo successo. perché no, vabbè, comunque c'è una bella canzone. Beh, è una bella canzone. Pensa di sparare. Prima di sparare pensi. Bellissima canzone. Però non ha fatto, diciamo, la storia che ha avuto la storia con Think. La lingua anglofona. Ah, è quella. No, la lingua anglofona è la storia di Pesiccia. Cosa c'è lì? Cosa c'è lì? Dai 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 dai. Guardiamo un post di Giulia Pelucchi per fare un po' più di chiarezza sulle vicende della pista ciclabile sul Ponte della Ghisolfa, barra Cavalcavia Bacula, barra via eccetera eccetera. perché lunedì ne abbiamo aperto. Secondo me c'è stato il forum della mobilità domenica, lunedì e martedì. Nel corso della prima giornata appunto Arianna Censi, assessora della mobilità del comune di Milano, ha presentato questo pacchetto di misure provvisorie. Pacchetto di misure provvisorie. Adesso sappiamo qualcosa in più, quindi possiamo fare un po' una precisazione. che in realtà ci sia stata una mezza fake news. C'è stato un misandesterno. Noi chiediamo scusa dell'errore ma non era colpa nostra. Abbiamo letto Il Giorno, che in realtà ha scritto la notizia in maniera errata, diciamoci la verità. O meglio facendo un po' di confusione tra cos'è il Cavalcavia Bacula, il Ponte da Ghisolfa e il Viale Monteceneri. Sono tre identità distinte. Infatti ne abbiamo contattato un ragazzo di un'associazione. Sì, sì, sì. Proprio quelli che si stanno battendo per cosa. E Zeno al telefono mi ha confermato ma no, non è niente così. Non è così. Anzi. Anche lui ha sottolineato che molto probabilmente c'è un problema di denominazione. Subito, subito. Prima di metto parola che molto probabilmente c'è un problema di denominazione. Molti nostri colleghi giornalisti, almeno i miei colleghi giornalisti, fanno ancora confusione, e lo trovo agghiacciante. Com'è che dice il conto? Aghiacciante. Ecco, così. Che confondano il Ponte a Ghisolfa con Viale Monteceneri e con Cavalcavia Bacula. Sono tre cose diverse. Vicine, sì, però tu non confondi il Duomo con la Scala, con la Galleria, anche se sono vicini. Per questo adesso recuperiamo, leggendo da Giulia Pelucchi, Presidente Municipio 8, questo pacchetto di provvedimenti annunciato dalla Censi domenica all'interno del Forum della Mobilità. Tra poco partiranno i lavori provvisori per la realizzazione della pista ciclabile sul Ponte a Ghisolfa. Grazie alla segnalitica verticale e orizzontale il percorso sarà reso più sicuro. Questo pacchetto prevede il ristringimento della carreggiata con segnalitica orizzontale per moderare la velocità dei veicoli. Ok. C'è quello che voglio dire. E se la reggita è più stretta, tu hai idea di andare più piano, non è che può andare ovvio. C'è una via più piccola, ma vai più piano che sono 8 carreggiate. Ok. Segnalitica orizzontale di velocità, di velocità 50 km orari di grandi dimensioni sull'asfalto, un po' come quelli che ci sono 30 su via Novara. Sì, però devo dire che lì fanno più paura, perché sai che c'è un autovelox davanti a te, quindi secondo me lì fa molto più paura. rallentatori ottici, quindi segnalitica orizzontale, segnalitica verticale informativa, presenza di persone in bicicletta e mantenimento a distanza di sicurezza. Un primo passo che anticipa i lavori per un progetto strutturale atteso da anni. Noi continuiamo a lavorare per realizzare alcuni sogni, tra questo un futuro diverso per il cavalcavia Monte Ceneri. Anche qua ritorna il problema di denominazione. No, anche qua secondo me ritorna al fatto di mettere due questioni insieme che non c'entrano nulla. Allora, il futuro del cavalcavia Monte Ceneri è una cosa, il bando andò vuoto ad esempio, c'era l'idea se il cavalcavia Monte Ceneri, cioè cavalcavia Bacula, quello che va da, diciamo, quello che parte dal Punta Ghisolfa, diciamo Mach Mahon, ok? Da lì e arriva fino giù in fondo a Piazza Stuparic, nonostante in mezzo ci sia anche un sali e scendi. Quello lì è il cavalcavia di Monte Ceneri o cavalcavia Bacula, chiamate come volete. E l'idea è di prima o poi smontarlo. O farlo convertire in qualcos'altro, la famosa High Line, famose cose che abbiamo visto anche in altra città. Quello è il futuro, cioè mettete il cuore in pace che prima o poi si farà. Quella è l'idea. Perché è inconcepibile che ci sia un'autostrada che ti passi in mezzo alle case. Per alcuni. Per me, in realtà, potrebbe anche rimanere. Mi spiace per quelli che abitano lì. A me lo dici. A me lo dici. Però il tema adesso non era quello. Il tema è l'acciclabile sul ponte della Ghisolfa. E quindi anche qui bisogna capire se poi questa declarazione è direttamente presa da lei o su un giornale. Da lei. Ok. Bisogna capire che anche lei ha fatto un ragionamento più ampio, o meglio, l'idea è quella di mettere a posto tutto quanto. Ma secondo me questa cosa va a... Annacquare. Annacquare l'intervento sul... Annacquare è una parola giusta. Annacquare l'intervento sulla ponte della Ghisolfa, che è quello che richiedono i ciclisti, richiedono neanche i piedoni, perché c'è piede che è assurdo lì. Sì. E nessun ciclista mai ha chiesto di andare in bicicletta sul cavalcavia Monteceneri. E attenzione, non è la foto di mille, milla bici una richiesta per passare in bicicletta. Secondo me questo è un grandissimo esempio di errata comunicazione e di come davvero non siamo capaci di comunicare le cose bene, ma facendo sempre volte poi dei rebelot, come in questo caso. Anche Giulia mi è caduta un attimino, mi è scivolata su questa cosa. Poi giustamente tutti i buoni intenti nella sua comunicazione, anzi fa chiarezza bene su cosa avverrà nella parte del ponte della Ghisolfa. Ci sono da tutte le parti perché finalmente si riesce a mettere mano alla vicenda. Ricordiamo che praticamente mensilmente in un certo periodo ci sono stati dei blitz di notte per disegnare. Dopodiché sul cavalcavia Monteceneri, lì poi c'è da fare un ragionamento, allora deciditi, cara amministrazione, se tu sopra chiudi le macchine vanno sotto, ma se sotto vi fa passare le biciclette, i pedoni, il tram, l'autobus, il filobus… Certo se sotto ci sono semafori ogni 120 metri. Capisci che è un problema. Sì, ma semaforo, posso dire, infatti tu anche usi la macchina e non usi la bicicletta, viene da dire. Amen. Cioè, posso anche essere cattivo, non so come dire. Ecco, il problema è che è un'arteria principale. Allora, vogliamo dire che la circolazione non deve più essere un'arteria principale? Qualcuno avrà il coraggio di dire questa cosa? Io ce l'ho ormai. Nel 2023 ho il coraggio di dire che la circolazione è inconcepibile che sia un'arteria principale. Non va più bene. Il problema è che non esistono le alternative al momento. E soprattutto, torno poi, se va a parlare dei miei amati trenini, dove la circolazione è questo il problema, secondo me. Il fatto che non ci sia una metropolitana, un tram, un treno, che faccia tutto il giro intorno alla città, questo ti porta a dire dei problemi. Eh, ma nella città ideale sì, però nella città di adesso, invece, secondo me, la circolazione è fondamentalissima. Non lo deve più essere. Deve diventare una roba dove passano… Ma da qua ha 40 anni però. Sì, ho capito, però devi cominciare a farlo. Il problema è che se tu dici, chiudo sopra il ponte, perché ci faccio la green line, ci faccio la light line, ci faccio le manifestazioni con i bambini la domenica, che tra i mesi vuoi capire come fanno entrare, perché è bello lungo, cioè, se entri nella madrata, poi c'è centinaia di metri di cavalcavia, quindi dovrai fare anche delle strutture per salire a metà su questo cavalcavia. Cosa fai? Sposti i mezzi pubblici? Si può fare, si può spostare la filovia sul cavalcavia, facendo le stazioni a metà. È un lavoro che però ci vogliono 10, 15, 20, 25 anni, eh. Don't speak, no doubt, no doubt, niente dubbi, non parlo. Questa canzone mi ricorda una serie televisiva, sul 6, è possibile? Sul 6? Ma chi sei? Ma sei mio nonno tu. Perché sul 6, non si dice sul 6. Solo nelle case cooperative della Bovisa si dice. Sul 6. Sul 6. Sul primo canale. Mi ricordo tipo, non lo so, saranno famosi o roba del genere. Sì, no, no, capisiccia. Non lo so. Paso delante. No, Paso delante no. Ah, è rifanno. Non lo sai questa cosa? Mi farò mai detto, non sai che io ero super fan di Paso delante e ti dico che già lavoravo. Quindi vuol dire che già eri grande. Ma molto grande. Ero già grande e andavo, tornavo di corsa dalla pausa a pranzo per mettere sul televisorino, lavorando in televisione, avevamo un po' i televisori, come dire, mettevo sul televisorino che avevamo nel nostro gabbiotto, in quel periodo lavoravo come reparto grafico, in una nota a Tenoberbia, anzi saluto gli amici di Tenoberbia. Tanto è andato in prescrizione adesso, che è il reato. E mentre lavoravamo ci tenevamo il televisore acceso su Paso delante, io e il mio socio, non posso dire nome perché lui lavora ancora lì, quindi non posso, il mio compagno, vabbè, Filippo, il mio compagno di grafica, il mio compagno di banco, diciamo, e ci guardavamo Paso delante, ma presi bene anche. Ti dico che io correvo, cioè uscivo fuori a prendere il pranzo, correvo, mangiavo fuori, perché all'epoca del delivery non si sapeva che cosa fosse, correvo poi dentro e accedo, oh, accede che inizia. E giravamo sul 6, come dici tu. Come lo chiami? Italia 1. Noi in realtà avevamo una matrice video per poterla vedere. E perché non erano i monitor con le case, era proprio complicato dentro, non era proprio la tv attaccata con l'antenna. Cioè andavamo sulla matrice video della stazione tv a mettere l'ingresso uscite per dire che in quel monitor volevamo vedere Paso delante. Perché avevamo una tv ma era piccola, invece avevamo un monitor gigantesco su cui lavoravamo e mettevamo Paso delante. Pensa a te. Mi hanno superato questa cosa. Io saluto Riccardo Colella, il mio grande capo della Lombardia, è andato in prescrizione, Ricky, ormai dai, non puoi dirmi più niente. E poi lo lavoravamo comunque, eravamo molto produttivi. Ma adesso non ti sta accusando di niente. E un po' mi senti un colpo. Sei un po' sulla difensiva questa roba qua che guardavi con molto coinvolgimento Paso delante. Non so se è peggio che guardavo con coinvolgimento Paso delante o che lo facevo durante ogni lavoro. Cioè questo vuoi capire qual era la cosa peggiore. Io non riesco a trovare cosa mi ricordo. No, ma secondo me è una pubblicità. Ah, può essere. Secondo me ti trovavo una pubblicità. Comunque, riprendiamo con le notizie. Oggi non abbiamo ancora parlato del Merla Tavolù. Sono usciti i primi dati. 600.000 visitatori in due settimane. Io adesso non so niente. Sei già dove stiamo andando a parare? Vai, finisci. Non lo so se sono tanti o pochi. 600.000 sono tanti o pochi? Non lo so. E' come la storia di vitri quadrati. Ritorniamo sempre lì. Quanta gente? 600? 600.000. Quanti sono? Non lo so. Tanti? Pochi? Quanti sansiri sono? Esatto. Sono 10 sansiri, no? 60.000? 8 sansiri, un'alba del genere. Eh, ho capito. Quindi? Quindi non lo so. Tanti o pochi? Però che arrivano anche le prime misure per il caos traffico, sapete che c'era stato questo problema, il parcheggio, il traffico eccetera, arrivano le prime. L'ho vissuto, nel senso che domenica sono passato di lì facendo il sottopassaggio che porta da, diciamo, via Stefansson, zona via Stefansson fino a Molino Dorino e la strada è la stessa, a un certo punto c'è l'uscita per Invermata Bloom. Per fortuna che c'è una corsia lunga per uscire perché ha tutto completamente impallato già da questa piccola superstrada che passa lì sotto, io ci ha patto su il tunnel di sinistra per andare verso Molino Dorino, ma quello che andava su da destra verso Cascina Merlata, verso Pero e così, era imballato completamente. Beh, domenica, sì. Sì, immagino. E niente, quindi in arrivo le prime misure antitraffico. O comunque per la gestione. Cosa metto? Dei cecchini che sparano le macchine che entrano? No, sempre le cose lì delle segnaletiche, poi si chiude da quello che ho capito. Adesso le merci arrivano solamente in una determinata via. Ah, sì, sì, sì. Cioè c'è un po' di divisione. Soprattutto avevo letto che ci saranno dei cartelli finalmente, perché devo dire che un problema è anche quello. Non ci sono cartelli, ma soprattutto ci sono cartelli non tanto, adesso dico una parola razzista, non tanto per i giargiana che arriva da fuori, che quelli arrivano dalla tangenziale superstrada e ci hanno scritto benissimo. Ma chi è autoctono e arriva dalla città, tu arrivi dalla zona, appunto, ti tocchiamo a Cascina Merlata, tu vai a Cascina Merlata. Cioè, quelli come me che non usano neanche il navigatore, che dicono, beh, mi dava conosco bene, cioè, ma conosco una via tasca, capito? Cascina Merlata, attacca. Persone che odio, tra l'altro. Grazie. Cascina Merlata, cioè, la Giussi ci abitava lì, no, attacca, ci vado. Ecco, arrivi lì e come un pistola, a mio punto, pirli in giro. Io a un certo punto volevo buttare la macchina su una iuola, dicendo colpa di Carlo Monguzzi, così, la buttavo lì, diciamo così, e andare a piedi, però sono pigro. Ma tu non stavi andando lì, tra l'altro. No, 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 la sera che sono andato lì, la sera che sono andato lì. No, comunque, no, perché cambia, è sempre in continua evoluzione il traffico a Milano, per questo, anche se faccio una strada... Non posso mettere, la tensione evolutiva l'avevamo già messa, non posso mettere. Anche se faccio sempre la stessa strada, se devo andare nello stesso posto, eccetera, alla fine mi fa fare sempre strade diverse, perché una volta c'è una relazione bloccata, l'altra volta... Chi ti fa fare? Il navigatore. Ma smè, buttalo via! Ma no, ma perché... Sei di Milano tu! Ma che vuol dire? Mi ingorgo! Sei sei milanese, ma ti ingorgo il cervello! No, no, mi imbottiglio, mi imbottiglio, mentre... Ti imbottiglio quando vai in mineria dopo. Quello è un altro discorso, quello è un altro discorso. In gaina. Ah, la sai questa cosa? Cosa? Che sei un alcolizzato, sì. No, 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 no. Scusa, no, che cosa? Mi dissocio completamente, che adesso è ritornato di moda il termine in gaina. Eh, guarda, sai quanti colleghi avevo che con il soprannome gaina si chiamavano? Eh, ma è diventata molto famosa per via di personaggi diversi. Eh, no, sì, sì, si è sempre detto, mio nonno diceva tantissimo. Io, ti ripeto, avevo dei colleghi chiamati gaina, cioè, per fatti capire quanto erano sovi nel momento del lavoro. Altro che passo ad elante lì. No, vabbè, non farò mai i nomi qua, però, eh, Ricchi, non ti dico i nomi questa volta. E nulla, no, perché, ah, sì, che è in continua evoluzione, quindi, alla fine, hai quattro possibilità per andare nello stesso punto, in quel momento, può essere una delle quattro, ecco, e quindi lo uso sempre. È un problema, questo. Eh, quello è un problema, sì, però. Meglio andare a vivere a Caronna Pertusella, visto che c'è la tecnologia, dove una strada c'è, quindi non hai problema, no? Visto che c'è la tecnologia, salutiamo gli amici di Caronna Pertusella, no? Andare a vivere in Val d'Aias, in Aosta, così almeno, come per carità, bellissima, no? No, no, animale urbano. Eh, ho capito, proprio ti lamenti che invece quattro, quattro opzioni? Non c'è il capito, ti c'ho quattro opzioni per andare dove voglio, mica come voi. Mi lamento per la gente come te che non vuole mettere il navigatore a tutti i costi. Dove abite a Corbetta? Due vie ci avete che cattostiamo il navigatore, io ho chiesto a Milano, devo mettere il satellite anche per andare al cesso. No, ce l'ho con la gente come te che non vuole mettere il navigatore perché conosci, chiaro che la conosci, però c'è il problema è che c'è il… Ma il problema ce l'hai tu nel cervello, ripeto ancora. Ma c'è sempre il punto di domanda, c'è sempre il punto di domanda. Quante volte ti capita di trovare la tangenzione chiusa? No, il punto di domanda è quando ti chiede il numero della via Mi riscontri il numero e ti metti il punto di domanda Non ha senso, il punto di domanda è di che cosa Non ha senso Il traffico delle chiusure, ma come non ha senso? E allora vai vivere in Val d'Aiastro, l'ho già ripetuto 7, 8, 8, non 7, 8 8 e 46 minuti Cristiano Radio, good morning Milano, bentornati, siamo qui Eh sì, siamo qui quasi Ci sono abituati a rientrare più caboleschi da parte mia Oggi Maseri mi sgrida che sono troppo energico No, oggi no Oggi va bene Oggi no, di solito sì, di solito è incredibile Come ho salvato le vostre anime anche a un certo punto Di solito è incredibile che o appartiene anche tu al popolo della gaina Perché essere alle 8 così attivo è infattibile È un presidio medico che uso di notte Ma un giorno ve lo racconterò Giuro che è legalissimo Me lo passo alla mutua Come si dice in questi casi Però non è niente di incredibile Da quando lo uso mi sveglio energico Bene, e non è appunto No, non è neanche una medicina È un presidio Un aggeggio Un aggeggio Oggi Grande incontro Questo fa ridere Perché io quando l'ho letto nella nostra mail Che arrivano tutte le Siamo iscritti alle varie newsletter Comune, regione, eccetera Oggi mi ho fatto ridere Perché Incontro tra il governatore Fontana È il presidente della Repubblica Ceca Eh sì Io non le capisco Ha fatto ridere Interverranno al Business Forum Italia Repubblica Ceca In programma in regione No, devo dire Siamo un po' mio più e terra De ridere su queste notizie Però a me fanno comunque ridere Perché effettivamente ci sta Cioè la Lombardia deve esportare Proprio Proprio industria Deve cercare Dell'Agreggio Orizzonti Però mi fa ridere Che ormai queste missioni Siano lasciate Ai presidenti di regione E non vengono invece Messe nell'idea Di fare magari un tour europeo Insieme a tutte le regioni italiane Quindi magari Insomma Sarebbe anche meglio Perché devi Adesso sono contento Se scegliete la Lombardia Per venire a produrre Cari amici della Cecoslovacchia Che non c'è più Però la Repubblica Ceca Dei notti un po' di nostalgia Non rimasto indietro No, no, no Ci mancherebbe Però Parliamo sempre Del sistema paese Però alla fine E mi viene da dire Ovvio che Fontana Possa fare certe missioni Diteglielo Al povero presidente Della regione Molise Cioè dove va Cioè nel senso Io sono molto d'accordo Con la questione dei livelli Eh sì Poi grazie C'è senso Grazie al presidente Fontana Che va in giro A sbattersi Per far sì Che le aziende Che l'economia Cioè tutta questa cosa va Però non so Lo trovo sempre un po' E poi fa comunque ridere L'idea che il presidente Della regione Lombardia Vada al presidente Della Repubblica Ceca Che ha meno abitanti Fosse da Lombardia Adesso Vado a vedere anche questo Non lo so Ma potrebbe Tranquillamente Essere Ehm Tra l'altro Ricordiamo Che domani Giovedì Il 30 novembre Milano merita di più Che è un'organizzazione Un po' politica Non ho capito Cioè Ti dico la verità Non ho capito benissimo Ottimo Comunque con Che fa Diciamo Che coinvolge Alessandro De Chirico Consigliere In Quattro Forza Italia Del Comune di Milano Ci sarà Appunto Questo Questo convegno Perché E quando Milano È diventata Gotham City Convenio sulla sicurezza Nella nostra città Volevo leggere Innanzitutto per il titolo Ancora questo Gotham City Poi vabbè Perché comunque Diamo Diamo notizie Di conveni Dell'altra parte politica Quindi giustissimo A Palazzo Pirelli Belvedere Enzo Iannacci In questo caso Non l'altro Non l'altro Ok però Scusa Se vai a un belvedere C'è il logo Di Forza Italia Quindi possiamo dire Non lo so Questa cosa del belvedere È un convegno Di parte Ovviamente Non so più Non capisco più Non capisco più Questa cosa del belvedere Vabbè comunque Domani Milano merita di più Perché E quando Milano È diventata Gotham City Convenio sulla sicurezza Nelle nostre città Ci sono tutte le informazioni